AAAAAAAH! AAAAAH! La nostra ragazza cresce a vista d'occhio. E non potrebbe andare meglio. DEMOLIZIONE Cos'è quello? Ok, sgomberiamo tutto. È giorno di demolizione! DEMOLIZIONE! SERVI, che succede? Chi siete voi? Che cosa succede? AAAAAH! No, no, fermo! Non fu! Ehi, che fai? D'accordo, è pronta! Pronta per cosa? Arancione. Chi ha cambiato colore alla console? Ti sembro arancione? Non l'ho toccata. Non è il mio colore. Non è io. Ciao! Oh cielo, io sono ansia. Dove metto le mie cose? Una nuova emozione! Wow! Oh, mi dispiace! Noi volevamo fare una buona impressione! Che vuol dire noi? Noi! 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 Ho, 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 ho! Ha 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 ha!